Il bomber della Juniors, Nicolò Cavallo, 13 gol in campionato, grande protagonista di questa stagione. Buonasera a tutti, ci stiamo mettendo di impegno, il lavoro sta andando bene sia della squadra che personale, a livello personale, al momento tutto va positivo. Senti Nicolò, lunedì per la prima volta sei partito dalla panchina durante questa stagione, era un periodo di tempo che il gol ti mancava. Hai iniziato dalla panchina, sei entrato subito, 20 minuti, 2 gol, una risposta più che positiva da parte tua. Mancava da un mese il gol, quindi da 4 partite si sentiva la mancanza e poi non ero il meglio del morale, sono entrato, ho fatto il mio meglio. Non sono impegnato e mi è arrivato anche l'unità di gol, sono prima di due e meglio ancora. Si, ha dato una bella risposta che comunque bomber cavallo c'è. Prima abbiamo intervistato il tuo compagno di squadra, Malizio Zollani, gli abbiamo chiesto maliziosamente preferisci giocare da punta o con cavallo? E lui candidamente ha risposto preferisco giocare con Nicolò perché mi piace giocare dietro. Confermi anche tu? Io confermo, a lui piace più prendersi le posizioni, girare intorno alla punta e io gioco all'in mezzo, scarico e faccio la sponda. Anche perché quando giocate insieme vi trovate abbastanza bene? Certo, ma io lo conosco da tanto tempo, abbiamo già giocato insieme anche a Cipocatti, quindi ci capiamo insomma. Senti, lunedì che partita sarà? La Pessapone non è un avversario semplice in questo momento? No, non è un avversario semplice perché sappiamo che avranno degli elementi forti e dovremmo comunque stare sul pezzo e concentrarci al massimo perché dobbiamo comunque provare a vincere questo campionato e metterci tutto quanto, tutto quello che abbiamo. Benissimo, grazie Nicolò e bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Grazie.